bella 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 ragazzi mitici 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 come state ragazzi tutto bene ciao ragazzi allora riprendiamo prendiamo un po di dirt allora io il gioco ragazzi l'ho finito ma mi sto un po facendo delle garecchine da playstation 5 su questo gioco per platinarlo quindi sto facendo le prove tempo e cercando sempre di migliorarmi la faccia la mettevo di là e ci vediamo anche i tempi sapete che lo faccio a noi è semplice allora mi è stato detto che si può fare in prova tempo facciamo un paio di ghi e andiamo a controllare perché se mangi sta qua ore senza che poi settimamente vada avanti non mi vuole non mi stila quello l'ho è fatica un'intraverso ma non è il blu e la la beh non so se lo stiamo mai chiusa la cosa sono io ok guarda madonna facciamo una bella cosa devo riuscire a capire allora dettaglio di pilota allora 636 ok e facciamo 636 allora io me la segno perché poi sicuro me lo dimentico 636 636 636 ok plague arcade se provo a tempo no inizialmente e basta vai su barozzo vai ok bella bella adesso devo 636 eh raga vediamo un attimo se una madonna vediamo la barra il twitch non ce l'ho eh quindi credo che se entra qualche amico vedermi me lo segnala come fa su youtube non lo so mi piace la serie 6 o la barra sotto che mi dice quanti sono a vedere tutto il resto andiamo a vedere se con questa macchinina riusciamo a fare un tempo magari il migliore senza prendere dentro il furo sia possibile questo è molto forte qui non 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 si non 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 Sì, sì. Ho fatto spuntarla lì Roccat, spuntato così da nulla? Sì, lo fuga un po' è arrivato a scuola Grazie a tutti. Ok Oscar lo fa. No l'altro. Se sei dove è che Oscar lo arrivo da qua. Eccolo qua. Visto Davide. Il fluo ha fatto tutto il traverso. E ora faccio più lunga possibile. Se vorrei recuperare più velocità rispetto a lui. E' un po' di macchina. 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 Io arrivo al mio limite raga. Dopodiché. Addirittura. Ci è stressato tutto il cuore. Facciamo ancora un paio di giro e andiamo a vedere. Perché avrei di fare... E' un po' di macchina. E' un po' di macchina. ... Grazie a tutti Il problema che guarda da una parte lo perdo dall'altra, è incredibile Il concludimento Ah ma io stavo concorrendo con l'1.02 ma cos'è che è... 1.05 raga Oh raga non sembra che è sempre 636 A me non funziona ragazzi, in prova tempo non va sulla distanza 636 eh raga 636 sempre E' un problema, è un problema perché non mi va su Vediamo, qua ero 8 km E' un problema Facciamoci questi due giri Ok, tre giri, un paio di gare almeno E quindi devo vedere Allora perché ce l'avevo in chilometri E ero arrivato a mille E' un po' di gare almeno E' un po' di gare al live Il problema è divertente ragazzi Adesso vabbè a fare mille miglia che sono 1.600 km Proprio divertente, no ma non si fa senza troppi storie Anche perché potete fare qualsiasi tre даже Io sto facendo quello, questo perch'. E' bello, mi piace non funzionano i vari circuiti fatti dalla gente, mi tonto al tempo, ho perso un sacco di tempo oggi che se faccia volare così magari l'avevo già finito non interessa se ti arrivo al primo o al secondo ma l'importante è fare il chilometro sta prendendo il santo di fuori volte ma lo tipo destra e sinistra ok anzi facciamone una sola e andiamo a vedere 636 ok dovrebbe essere 639 640 esatto 4 quindi 10 sono 40 non so che cosa dirvi ragazzi ma a me è così abbiamo questa 4 quella lì era 4 miglia 10 rigare sono 40 miglia 680 tanta roba a 640 c'è una storm marty bella storm marty 3 1 2 6 12 12 12 13 15 16 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Anche una pista carina, non si faccia più, più, ciao ragazzi, benvenuti, più chilometri possibili per il trofeo, vedete, c'è mille miglia, mille e 600 chilometri. Ciao amici, tutto bene? Benvenuti. E vediamo un attimo di capire, visto che l'altro sono 4 miglia, queste tracciate in tre giri quante miglia sono. Grazie a tutti. Ok, andiamo a vedere. Alla fine ci sono 3 minuti ed è forse un po' più fattibile perché non ha i salti, non è una roba strana, sinceramente. Questa qua è la Cina. Fatemi vedere qual è. Ok, è questa. Andiamo a vedere. E' sempre quello. E' sempre quello. Andiamo con la Storm Martin. All in. Quindi, gira di gira, sono gli 8 chilometri. L'unica cosa che magari potrebbe essere di più sono i circuiti quelli con la partenza e l'arrivo non a giri. L'unica cosa che magari potrebbe essere di più sono i circuiti, non a giri, non a giri. Allora, facciamo ancora un paio di garette e poi ragazzi andiamo su Park Tire. Allora... 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 Quello che quando va nell'acqua e tutto si sentono le gran belle fucilate sul drilletto della Place 5, 2 o 3 Non so se è l'ultimo o non è il mio canal Non so se è l'ultimo Non so se è l'ultimo, non so se è l'ultimo Non so se è l'ultimo, non so se è l'ultimo Non so se è l'ultimo, non so se è l'ultimo 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 Che biotto non è il massimo È cinquantuno vero, ne? Sì, però non pò inviare Grazie a tutti. 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 Questa qui qual'era? Andiamo qual'era? Vale marmifera. E quella in mezzo... Vediamo quante... a livello di... a livello di... chilometri... 651 era, giusto? a livello di... 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 Vai! Oh, che buono! Uh, che bel marmo! Madonna! Se voglio prendere una, è una dietro l'altra! Oh, che bel marmo! Oh, che buono! Uno, se non ricordo male, è un 65 però... ... 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